A proposito delle morti improvvise che secondo dati certi al giorno d'oggi sono in continuo aumento anche tra i giovani e i giovanissimi, abituiamoci sin dal mattino a pregare per tutti coloro che verranno presi dal Signore oggi. Facciamolo offrendo al Padre tutti i dolori e i meriti di Gesù Cristo per la loro salvezza e per la loro salvezza. Non illudiamoci di salvarci senza Gesù Cristo. Lui l'aveva detto, senza di me non potete fare nulla. Lui è il vero Signore delle nostre vite. La Chiesa raccomanda di pregare il Signore per liberarci dalla morte improvvisa, per non trovarci impreparati. Preghiamo che quel giorno in cui verrà a prenderci ci faccia trovare in un clima di pentimento e conversione interiore. Il cristiano che desidera essere sempre pronto, come esorta Gesù stesso, dovrebbe convertirsi, confessarsi spesso, frequentare la Santa Messa tutte le domeniche e le feste raccomandate, amare Dio ed il prossimo. Chi inizia ad amare il Signore sin da questa vita terrena, nell'aldilà continuerà ad amarlo in pienezza, perché lo vedrà così come egli è. Signore, dalla morte improvvisa liberaci.